Sono Marco Zaffaroni e a livello sportivo la mia attività principale è quella dell'alpinismo, meglio dell'alpinismo d'alta quota dell'imalaismo. Adesso sto per partire per l'ennesimo tentativo all'Everest e quando mi è stato proposto di provare di testare le solette infiniti ho accettato immediatamente per vedere che effetti positivi potevo avere sulla mia attività in quota. Ho cominciato a usarle un mese prima della partenza che varrà tra qualche giorno e oltre ai miei allenamenti normali le ho usate in tre gare che ho fatto per prepararmi, tra cui il sella ronda e il giorno dopo una trail da 65 km, mentre il sabato successivo sono andato a una gara da 220 km di scia di fondo e ho visto anche i miei problemi con i piedi. La prima sensazione che ho avuto è stata quella di un equilibrio maggiore, ho una facilità nell'equilibrio e nella coordinazione, visto che anche sto diventando un po' vecchio. Sicuramente le altre due cose che mi hanno colpito è il fatto di aver fatto secondo me meno fatica del solito a ottenere gli stessi risultati e dopo le gare un recupero più veloce. Questo mi fa pensare che magari con più consapevolezza nell'utilizzo delle solette e delle mie capacità potrei anche provare a migliorare le mie prestazioni, anche se poi come dicevo le gare sono solo il contesto dell'allenamento, mentre testandole poi all'Everest vedremo un po' i miei risultati, se saranno migliori, se riusciamo ad arrivare in vetta o se ci riusciamo ad arrivare facendo meno fatica.